Se le auto sono in continua evoluzione, altrettanto si può dire degli pneumatici. Importante e unico mezzo di contatto e aderenza tra auto e suolo. È un pneumatico, perché parliamo dell'Eagle F1 Supersport, in tre versioni. Tre versioni dove la grossa differenza è il disegno del battistrada, che ci porta da applicazioni più stradali ad applicazioni più da pista. Il pneumatico Eagle Supersport RS è un pneumatico che gomma una Porsche GT2, GT3 RS. È un pneumatico tipicamente da pista. Infatti vediamo che le scannalature del battistrada sono appena accennate. Parliamo di un pneumatico che è quasi un semi-sleak. Per quanto riguarda invece le due versioni, come questa versione che è il pneumatico R e il Supersport, invece sono destinate a vetture che vanno sì in pista, ma che percorrono delle strade anche molto normali, ma che ricercano delle prestazioni più sportive. Evidentemente con un pneumatico Eagle Supersport R si può gommare una BMW M4, una GT3 della Porsche, mentre invece il pneumatico Supersport è un pneumatico molto adatto a berline come la M3 o anche il 911 Carrera. Ecco, questo è per noi veramente un gradito ritorno in un settore molto da pista, molto prestazionale, dove Goodyear ha sempre avuto storicamente una grossa presenza e attraverso questi tre pneumatici oggi andiamo veramente a rispondere a tutte le esigenze degli automobilisti e alla loro voglia di pista.